Ciao a tutti amici di Alessandro TechWord e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo la configurazione appunto dell'RE355, un range extender di casa TP-Link che potete vedere appunto qui nell'immagine per il quale avevamo già fatto una recensione che potete trovare nel canale di Alessandro TechWord. Oggi sostanzialmente cosa facciamo? Facciamo una configurazione tramite due metodi, ovvero quel metodo denominato WPS e il metodo invece un po' più, perdonatemi il termine, laborioso che praticamente consiste nel collegarsi allo stesso dispositivo mezzo cavo Ethernet o wireless entrare nella pagina di configurazione e quindi configurare il dispositivo manualmente. Sicuramente il metodo 1 è più semplice ma se non state capendo nulla di quello che sto dicendo non vi preoccupate perché subito dopo la sigla vi faccio vedere appunto tutti e due metodi quindi partiamo il tasto di WPS per poi passare alla configurazione appunto un po' più laboriosa ovvero quella che prevede l'accesso alla web UI. Beh allora se non c'è altro da dire io vi lascio alla sigla e poi torniamo sempre qua per il video di configurazione con il metodo 1 ovvero quello di WPS. Sigla! Adesso partiamo con il metodo di configurazione denominato Push & Connect. Allora come prima cosa dobbiamo andare a premere il tasto di WPS sul modem router quindi niente seguitemi e andiamo a premerlo. Adesso andiamo a zoomare e vi faccio vedere che praticamente ha la sua spia dedicata che è questa ecco andiamo a premere il tasto di WPS e vedete che la spia di WPS inizia a lampeggiare in maniera regolare. Ora cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo fare altro che andare sul nostro range extender e premere anche lì il tasto di WPS allora seguitemi. Questo è un tastone fisico WPS. Lo premiamo una volta. Vedete che inizia a lampeggiare. Ora quanto ci vuole prima che i due dispositivi si riescano a connettere? Diciamo che ci vuole molto poco, alle volte 20 secondi, alle volte 5 secondi, alle volte per qualche assurdo motivo non si connettono. Ma niente, attendiamo appunto la connessione. Dopo circa due minutini vedrete che il prodotto si configurerà in maniera egregia. Come capire se il prodotto è configurato? Vedrete sicuramente il tasto di power, il LED power scusate acceso. Vedrete questa grossissima spia circolare attorno al tasto WPS accesa e poi la 2,4 GHz accesa e come vedete la 5 GHz è spenta. Spenta perché? Perché purtroppo tutti i range extender, purtroppo quando si configura con il tasto di WPS viene configurata soltanto la parte da 2,4 GHz. In questo caso il range extender funge praticamente per la rete da 2,4 GHz e quindi non quella da 5 GHz. Se volete configurare il range extender al meglio dovete necessariamente accedere alla pagina di configurazione e quindi seguire il mio video di adesso, ovvero il metodo 2. Adesso siamo giunti alla configurazione tramite il secondo metodo. Piccola premessa. Per poterci collegare tramite WIFI al range extender non serve internet e quindi siccome io sono collegato anche tramite Ethernet, cosa faccio? Vado sicuramente a disabilitare la scheda Ethernet oppure staccate il cavo Ethernet in modo tale che l'unico tipo di accesso disponibile sarà quello WIFI. Successivamente andiamo a fare una scansione delle reti WIFI e vedrete che troverete due reti WIFI, tipi link, non protette, quindi aperte. Questo simbolo è praticamente il simbolo che identifica che non vi è connessione internet ma a noi non ci interessa. Ora se avete una scheda dual band le vedrete tutte e due, se avete soltanto una scheda single band ne vedrete soltanto una, la 2,4 GHz. Colleghiamoci quindi alla 2,4 GHz scanso di equivoci. Attendiamo un attimo e vedete che siamo già connessi, chiaramente lui dirà che la connessione è senza internet ma a noi non interessa. Quindi facciamo clic qui, vedete qua sta frullando e ora cosa dobbiamo inserire? Dobbiamo inserire l'indirizzo P standard del range extender. Lo inseriamo e verremo reindirizzati automaticamente alla pagina dell'RE355. Inseriamo le credenziali di default per l'accesso al range extender, scusate le ho dette tutte, che sono admin come nome utente e admin come password. Facciamo login. Una volta fatto login ci chiederà di cambiarle, non cambiatele perché poi è un delirio, non ve le ricorderete mai, quindi cliccate qui in altro la X e usciamo. Ora qui dobbiamo selezionare la nostra regione che è in questo caso Italia, a meno che voi non mi stiate seguendo dall'estero. Vabbè, mettete la vostra regione di conseguenza, fate next. Successivamente si effettuerà una scansione delle reti wifi, quali quelle a 2,4 GHz, come potete vedere qua in alto. La scansione durerà pochi secondi e la scansione praticamente farà apparire tutte le reti wireless che sono visibili nella vostra zona. Chiaramente voi dovrete collegarvi alla vostra rete wireless, non a una a caso. E' chiaro che quindi nel mio caso, vabbè, si capisce, Alessandro TechWord è la mia rete, wifi. 2,4 GHz, ne vedo soltanto una, la seleziono e inserisco la password che ho cambiato per ovvi motivi di sicurezza e ho messo prova prova, tutto attaccato in minuscolo. Faccio next, se la vostra rete non appare, abbiamo la possibilità di fare un riscan della rete, quindi ricercherà un'altra volta tutte le varie reti. Non è detto che la vostra rete sia tra le prime, ce ne sono n, controllatele tutte. Se non la trovate, fate riscan. Se invece volete configurare il range extender soltanto con rete da 5 GHz, potete fare skip e quindi andrete a configurare il range extender soltanto in rete da 5 GHz. Ora, in questo caso, noi abbiamo e vogliamo estendere sia la rete 2,4 GHz che 5 GHz e quindi facciamo next. other, other, praticamente vi fa settare a mano il nome della rete wifi e MAC address e password in modo tale che comunque riuscirete a configurarlo anche a per esempio un amico e quant'altro. Se qualcuno di voi ha necessità di configurarlo in modalità other, fatemelo sapere e sarò sicuramente disponibile ad aiutarvi. Facciamo next e verrà richiesta quale rete wifi a 5 GHz vogliamo estendere. È chiaro che molti di voi credo l'abbiano rinominata e di conseguenza io l'ho rinominata alexandrotechward1 capendo che questa è la rete da 5 GHz. Inserisco la password che anche qui l'ho lasciata prova prova e faccio next. Non fate altro che fare ancora next, ma attenzione, fatemi spendere qua due parole. In questo caso, lui chiamerà la rete estesa da 2,4 GHz e da 5 GHz nel medesimo nome che viene praticamente chiamata dal vostro modem router. Questo fa sì che non possiate trovare differenze e problematiche a livello della vostra rete interna. Infatti i terminali, quindi smartphone, tablet e computer, non vedranno la rete del range extender TP-Link, non vedranno una rete TP-Link, ma vedranno soltanto la rete originaria Alessandro TechWord. Facciamo poi next. Ora non dobbiamo fare altro che cliccare su finish e il range extender non farà altro che riavviarsi. Ci vorrà circa una quarantina di secondi e a riavvio completo andiamo ad analizzare le reti Wi-Fi presenti e successivamente le spie sul range extender. Ok ragazzi, adesso come potrete vedere anche la spia da 5 GHz è diventata completamente accesa. E vabbè, le altre lo erano già prima. Questo approva del fatto che tramite il metodo 2 potrete stendere sia la rete da 2,4 GHz che quella da 5 GHz. Ora potrete portare il vostro dispositivo, come vi dicevo, al limite della copertura Wi-Fi del vostro modem router originario. Cercate di non distanziarli troppo. Se il LED qui diventa di colore rosso, vuol dire che il segnale Wi-Fi del vostro modem router e non del range extender è un po' scarso e quindi questo ad identificare che dovrete avvicinarlo di più al vostro modem router. Per questo video è tutto, io vi ringrazio. Se ci sono delle domande oppure vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi al canale e al prossimo video, ciao dall'Essamo del Tech World! Questo video per spiegarvi la differenza tra range extender e power line, quando usare uno, quando usare l'altro e il 3.